svendita tutta questa roba in vendita dove sono tutti i mobili vuoto proprio come il mio cuore vostra madre è una grande donna da pari sono ricca aspettate torno subito con un'idea guarda ecco il nostro schizzo del letto a castello triplo no lo cambierò ora questo letto sembra super figo aspetta voglio aggiungere qualcosa anch'io più brillantini ora è perfetto il rosa è dappertutto cosa ha fatto al mio progetto è rovinato accidenti ecco ho temperato la matita ora posso lavorare sean è il migliore nel montare i letti tutto fatto e noi dobbiamo solo dipingere il letto il mio letto sarà rosa come volevo il nero ha la tonalità migliore per qualsiasi cosa ops il pennello non ha retto alla pressione oh che bella bambola e capelli perfetti barbie avrai una grande carriera nell'arredamento di interni sei così brava a dipingere phil come hai potuto era la mia bambola preferita non toccare mai più i suoi capelli bene dipingerà con lo spray wow sean la tua idea è così bella la matita è la fonte della mia ispirazione artistica questo letto a matita appartiene chiaramente a un nerd non c'è solo una matita ma tre ho bisogno delle tue interiere orsacchiotto ora coloriamo l'imbottitura e aggiungiamo la luce oh sì voglio decorare tutto il mio letto con dei giocattoli cavolo è un tuono sentite la potenza del mio soffitto tempestoso sono Zeus il re del tuono che la luna brilli per me oggi c'è la luna piena oh il mio telefono è morto di nuovo lo caricherò con l'energia dello spazio ehi! chi ha spento la mia luna? proteggerò il mio letto devo solo montare un baldacchino lega il tulle a un ulao e mettilo sul soffitto ora sembra un vero letto da principessa la matematica è come una lotteria ehi Phil! infila questi involucri nella tua... cassetta della posta hai ricevuto una lettera chi la manda? attento a te Sean smettila di soffocarmi morso di nastro adesivo ahi! il mio braccio! un'altra lettera? che c'è questa volta? un invito a un tè? una festa del tè? ragazzi vi aspetto! e ora fate la pace come fratelli ottimo lavoro! questa casa è in vendita ecco! guardate la stanza dei bambini cosa? Sean! fai qualcosa! ciao! ciao! venite pure! vi mostreremo tutti i vantaggi di questa stanza oh! questo letto rosa è così adorabile! è morbido! certo! perché è un materasso ad acqua! perché c'è dell'acqua? è un alluvione? aiuto! siamo al sicuro sotto il cielo? non credo proprio libera! che bel tuono! chi vuole rispondere? sarà... tu! no! accidenti! che tensione! Lucy, vieni qui! ok! torno subito devo rispondere a chi serve tutta questa matematica? cos'è quello laggiù? un passaggio per una stanza segreta? è molto spaziosa e così pulverosa la stanza dovrebbe restare segreta ehi guardia! coprici! sui signorino! bene! iniziamo a costruire! il cappello di giornale è super ecologico! protezione solare e occhiate la protezione più efficace in assoluto! ecco i miei strumenti chic ecco con cosa costruirò il mio ottico oh! grazie! questo mi sarà utile oh! che bella casa di cartone al lavoro mio caro affittatore stringiamo stringiamo tutte le viti cosa ne pensate nel mio ottico? i contanti faranno tutto il lavoro per me ai! wow! questo è il nostro nuovo ordine ecco il suo l'acqua a castello miss super ricca mettetelo dritto ottimo! grazie per il vostro lavoro ragazzi! allora perdetti chi ha il letto più comodo ora? eww! questo colore è il peggio no! questa vernice non è abbastanza lussuosa ma posso rimediare basta aggiungere dei diamanti va bene posso abbellire il mio attico in modo altrettanto bello oh sì lingotti d'oro proprio quello che ci vuole un piccolo trattamento termico voilà ecco la mia piastrella d'oro io ho solo un pennarello ma va bene è così la conoscenza è la migliore decorazione fatto oh no il mio look da muratore è rovinato ora va benissimo ehi smettila di fissarmi secchione sto scrivendo le formule ecco come dovrebbe essere la casa con una facciata d'oro ricchi sono strani ora questo tappito è abbastanza bello sei così presuntuosa la sedia è così dura non era questo il nostro accordo ho un'idea questa cifra dovrebbe essere sufficiente ho abbastanza soldi per impagliare la sedia chic e morbida prendo un bicchiere di tè freddo per festeggiare ehi non è un cassonetto d'altra parte ho bisogno di un letto come tutti gli altri vado al mio reparto edile preferito cosa hanno buttato via oggi? nastro adesivo è un mucchio di bottiglie fantastico per me va bene meno male che non ho avuto tempo di portare fuori la spazzatura il sacco fungerà da cuscino un nuovo episodio di zoom boom doom è il migliore ehi voglio guardarlo anch'io shon togliti di mezzo è proprietà privata come vuoi ma che falli? farai il mio cartone animato funziona! si sto venendo da te disney wow shon posso provare? mi lasci guardare zoom boom doom invece? a fare fatto ho fame mi farò consegnare il cibo signorina è arrivato il suo chef personale ecco le sue ostriche fresche grazie vai pure adoro le ostriche sono così viscide e il lato positivo è che sono costose mangia il tuo cuore shon spero di non vomitare come l'ultima volta ehi perché c'è del tubo? stiamo andando a fuoco il fuoco il fuoco phil vuoi che soffochiamo? lontani dal mio barbecue shon male puro per l'amor del rosmarino shon il barbecue ha un profumo fantastico ecco estintore benvenuta Lucy come sono arrivata qui? ma dove vai? studiamo insieme cosa sta facendo? un canestro da basket proprio sopra l'ingresso ne ho sempre voluto uno ti definisci un genio? la mia invenzione è geniale rincorrere la palla estenuante userò l'idea di shon ora posso giocare a basket e rimanere sulla mia sedia bravo wow cos'è quella luce? organizzerà una festa stop dacci un taglio phil vedi cos'hai fatto? la mia povera casa è distrutta perché mi hai fatto questo? colpa mia shon ho un'idea Lucy ehi shon vieni a divertirti con noi fatti sotto oh grazie la lavagna salve Miss Temple che succede qui? tornate in classe oh sì si schiuderà da un momento all'altro cosa? è un dito? sorpresa siete caduti nel mio scherzo bene sedetevi ragazzi il progetto cura un uovo come il tuo bambino inizia oggi chi ci riuscirà riceverà i biglietti per Disneyland queste uova sono i vostri bambini per la prossima settimana oh benvenuto al mondo il nostro retroccolo chiamiamo Duke il primo ehi ma dove andrà a vivere? ecco un'idea costruiamogli una casa perché l'uovo non si anima? ehi ho finito di fare il nido cosa? grazie sono a posto hai un'idea migliore Phil? aspetta un attimo e controllerò cosa stanno facendo le ragazze le mie lezioni di spionaggio mi sono tornate utili stanno costruendo una cosa o qualcosa del genere? cominciamo amica mia ok quella sarà una finestra così i nostri anatropoli potranno rischiare ora decoriamo il nostro mondo di papere carta da parati per le pareti delle anatre e colla finito manca qualcosa ecco il battiscopa ecco fatto ora è impeccabile ho un'idea sì no oh sì no bene giochiamo sasso carta forbici sasso carta forbici Sean sei un perdente metti il becco e incuba l'uovo hashtag faccia da anatra Sean anatra il nostro Duke il primo la cosa più carina di sempre ehi Sean hai dormito tutto il tempo uno due dove è il terzo uovo? sveglia papapapero il nostro terzo uovo è scappato guarda uno due e zero guarda ci sono delle tracce seguiamo le tracce Phil prendilo preso piccolo perché sei scappato dal nido? è ora di tornare dai tuoi papà fratelli cosa? oh giù le mani non abbiamo fatto nulla benvenuti al mondo piccoli questo nido è troppo piccolo per loro oh conosco una soluzione i cuccioli hanno bisogno di una culla la farò io un materasso di paglia cuscini in piuma d'anatra e una coperta rosa per tutti qui, qua, qua e Emi guardate ragazzi questi sono i vostri idoli ai nostri anatroccoli manca qualcosa esatto mantelli colorati lascia che ti aiuti ad allacciare il cappotto amico lasciami in pace qui questo cappotto mi fa sembrare grasso consegna mobili ecco il guardaroba e un comodo divano piccolo uovo dove sei? come va Sean? hai dato un'occhiata in classe? andiamo oh ecco ti qui ciao piccolo finalmente ti abbiamo trovato torniamo a casa non così in fretta questa città ha bisogno di un vero eroe cosa? ma guarda un po' chi è con il nostro uovo? un uovo con un mantello? sono Paperinica il terrore che vola sulle ali della notte ai! è davvero forte! ecco il vostro posto morbido anatroccoli ho portato un tavolo aggiungerò dei cuscini in modo che gli anatroccoli si sentano comodi ed ecco uno snack Anna 3 è ora di pranzo godetevi il vostro cibo grazie mamma Lucy piccoli miei ecco una cucina per voi per cucinare cosa ne pensi Lara? io dico di aggiungere dei quadri alle pareti la perfezione fatta ad Anatra vuoserei una porta per la piscina Lara? certo che sì! prepariamo il prato riempiamo la piscina d'acqua ehi anatroccolo è ora di nuotare ecco lo scivolo e un po' di verde guarda! gli anatroccoli sono pazzi della nostra piscina e adorano schizzare l'acqua ho un'idea meravigliosa attireremo l'uovo nella nostra rete appena si avvicina abbastanza afferralo non lasciarlo andare eccolo forza preso piccolo i nostri anatroccoli stanno così bene al loro posto non siete riusciti a covare nulla oh che problema forza uova fatelo uscite è chiedere troppo oh guarda sento scricchiolare è il cuscio forza anatroccolo cosa? una lucertola ma com'è possibile? dov'è l'anatra? wow è un mini drago è molto più fico di un'anatra ragazzi avete una cattiva influenza sulle uova cavolo cos'è questo? chi è? non toccate i miei figli dinosauro non mangiarci sorpresa molto divertente professore ne abbiamo abbastanza aspetta cosa? il mais si sta trasformando in popcorn senza micro questo calore è di un altro livello oh no 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 non il frigorifero il nostro unico iceberg in questo oceano di calore è bruciato ordinerò un nuovo frigorifero più grande con il massimo spazio grazie per la consegna ecco la mia oasi di freddo ehi cosa c'è incastrato lì dentro? Sean ma che fai? stavo cercando di prendere un po' d'aria fresca ehi phil puoi andare al frigorifero mentre la mamma non beve? pronto? raffreddati wow vieni con me? che bella sensazione sono nel paradiso del ghiaccio salute al freddo in una giornata estiva è il mio drink guarda il gelato nel mio bicchiere decoriamo la nostra stanza del frigorifero la mia sedia comoda ai phil scusa Sean ma questo posto è mio ok facciamo a cambio che libro emozionante che cos'ha il mio dito? il libro l'ha catturato ehi lasciami il dito chi ha bisogno di libri quando esistono le tv? non ferire i sentimenti dei libri oh ecco un'idea quando fa così freddo i libri si attaccano facilmente al lato del frigorifero una mosca è enorme dobbiamo occuparcene ferma mostruosità ronzante uccidiamo quella mosca fermati non riuscirai a scapparci mi è venuta un'idea attivo la modalità di congelamento massimo santo ghiaccio beccata la mosca appena congelata che carina vuoi essere il mio animaletto domestico? ti chiamerò pelosetto pelosetto vieni si brava sei la mia mosca più carina il miglior animale domestico di sempre chi è la mia soffice pelosetta? pelosetto è molto intelligente oh Phil butta un po' di ghiaccio anche nel mio drink ecco fatto ma è vuoto solo un secondo hai dimenticato dove siamo? tutto qui? ok colpira più forte oh ora sì che si ragiona ancora più ghiaccio ok wow piove ghiaccio forte stasera esco le cose devono essere perfette candele di ghiaccio candele di ghiaccio manca qualcosa? giusto la mia ragazza vieni Caroline wow l'atmosfera che si respira qui è così rinfrescante siediti sono Phil il vostro cameriere per stasera volete che vi porti il nostro piatto? il nostro gelato è fatto da zero grazie le bevande arrivano subito io scuoto la cacca cola ecco la vostra bina posso aprirla? buon appuntamento credo che ora andrò Caroline questo è il peggior appuntamento di sempre che stai facendo Sean? vado a giocare a bowling al freddo sembra divertente ci sto strike tocca a me pronto? partenza? caduta ahi ho vinto aspetta un attimo guarda Phil siamo noi ci stanno cercando mamma c'è un buco nel muro fammi vedere wow c'è una stanza segreta diamo un'occhiata ora abbiamo una stanza tutta per noi non toccarmi interessante è uno sceletro lo è davvero è senza paura ho sempre desiderato una corona come questa la corona è mia lo scheletro ha preso vita vi siete introdotti nella mia stanza felice di vedervi benvenuti sono il re del college del 1791 ti prego abbi pietà di noi Sean rilassati sono allergica alla polvere questo posto non viene pulito da un po' ho un'idea per prima cosa sbarazziamoci di tutto questo risordine c'è così tanta spazzatura ehi re svegliati aiutami Sean ecco plastica possiamo coprire il pavimento fatto cominciamo a dipingere fatto cominciamo a dipingere fatto mia dolce mucca resta qui che succede dormi qui bene noi assembliamo un letto sai come funziona? ci proverò fatto non sembra molto simile vi aiuto io guardate e imparate wow e il letto è fatto wow è ancora meglio del progetto solleva il materasso Sean che ci fai qui? vuoi un uovo in salamoia? assolutamente no più per me allora questo orribile pieno è ovunque decorerò la mia metà in modo così bello che sarà impossibile notare il pieno ci siamo quasi luci edera fiori morbidi cuscini e giocattoli e alcune delle mie foto preferite questo posto è così accogliato niente vuoi un sottaceto? lasciami in pace chi ha ordinato una pizza? noi la prendo io uno scheletro ehi salvi se ne è andato taglierò la pizza a fette no la pizza è dentro la scatola capisco che buona Sean c'è un passaggio posso chiedere dove mi trovo? oh no beccati siamo proprio fregati uno scheletro non mi sento molto bene mmm no no no